il cattufo come lo fai? oggi sa come lo facciamo? facciamo un po di carne battuta di vitello condita con capperi, senape, olio, sale, pepe, uovo in camicia e tartufo fresco tartufo paesano iniziamo questa ricetta che è freschissima e a base di tartufo e battuto di carne per fare questa ricetta abbiamo bisogno di una buona carne magra, del manzo l'abbiamo battuta al coltello e l'abbiamo condita con dei capperi, del sale maldon, del pepe e dell'olio extravergine la massaggiamo un po così come sto facendo io a questo punto cuociamo l'uovo pronto terminiamo il piatto con l'aggiunta dell'uovo, del tartufo nostro locale, una cella di parmigiano e un po di misticanza di verdure fresche, dell'olio e un po di sale maldon il piatto è pronto da capperi che è tutto, buon appetito grazie a tutti ciao